Musica Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi mamma mia che patch che è arrivata ieri la 13.40 E' vero che ha portato sicuramente una ventata di aria fresca I veicoli li possiamo guidare tutti, sono tantissimi Tanta roba, ne parleremo più avanti con calma Ma ha portato un sacco di novità per quello che riguarda eventi, collaborazioni, nuove skin Insomma tante news di cui vi voglio parlare proprio nel video di oggi Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop Con il mio codice creator Xyuderone Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno Mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali E soprattutto Di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi Una delle grandissime novità che ancora non sono presenti in game Ovvero sia l'inserimento di una valanga di nuovi pesci Prima voglio farvi vedere però delle stringhe che sono state trovate appunto nella patch Le leggiamo First catch New Number Non si sa Personal beast Lunghezza in centimetri Requires pro fishing rod Sono praticamente o delle legacy o delle nuove ricompense che vengono date al completamento di qualche cosa Quello che ci interessa è ovviamente l'ultima stringa Requires pro fishing rod Questo vuol dire ragazzi che è ufficialmente confermato l'arrivo della nuova canna da pesca potenziata Che molto probabilmente servirà per acciuffare qualche pesce molto particolare E per qualche intendo una moltitudine incredibile Ne sono stati inseriti più di 35 Ne leggiamo due o tre Green flopper Tan small fry Blue small fry Silver Thermal fish Ma sappiamo anche che ci sono dei pesci che potranno essere catturati in alcune condizioni Ad esempio di notte come il black small fry Il dark vanguard jellyfish Eppure ce ne sono tanti altri che invece potranno essere pescati solamente in alcune zone Tipo le montagne Non chiedetemi come sia possibile Purple slarp fish White spotted firefish Oppure pili jellyfish E tra l'altro ragazzi Mentre vi faccio vedere qualche immagine dei pesci Vi faccio ascoltare anche i file audio Dedicati ai nuovi pescioloni Guardate quanti È veramente incredibile Perché avendo pure inserito i file audio Vuol dire che O ci saranno proprio dei mini eventi dedicati Oppure io non so davvero che cosa dire ragazzi Perché guardate quanti pesci hanno aggiunto E quanti nuovi tipi Tipo c'è questo pesce palla tutto spuntoso sotto di me Nella terza riga ci sono addirittura delle meduse E tanti tanti altri ragazzi Insomma una novità che staremo a vedere mano a mano Che si scoprirà qualcosa in più E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi Perché hanno inserito nei file di gioco Un comic book Quindi un libro Che in realtà E dovrebbe essere già in mezzo alla mappa da qualche parte Che sarà interagibile con il personaggio Quindi potrete leggerlo Non sappiamo se farà parte di una quest segreta Oppure farà parte di una side storyline Sinceramente è un mistero abbastanza importante Ma abbiamo la certezza che C'è una stringa che si chiama Golden Magazine Quindi sappiamo che potrebbe essere Placcato d'oro Non ci sono purtroppo foto Di questo libro Ma chi lo trovasse Per cortesia Me lo scriva su Instagram Perché sono davvero super curioso Di capire che cos'è E un altro argomento importantissimo Stiamo per avvicinarci All'evento della season Non se ne è parlato praticamente Fino alla patch di ieri E adesso abbiamo delle certezze La prima Il nome dell'evento Si chiamerà Hightower E come vedete ragazzi In realtà Hightower Sky Crack Come state leggendo in questo post È molto più che il nome di un evento Innanzitutto Voglio farvi sentire Dei file audio Ascoltate All'evento Questi file audio Che state sentendo Nel background Sono gli stessi Identici Dei rift Arrivati in season 5 E ragazzi Forse non lo avete ancora visto Ma nel cielo C'è veramente Un nuovo rift Lo possiamo vedere a sud Da questa immagine Guardate nel cielo Una nuova crepa Si è aperta Là nel blu Tanta tanta roba Perché per chi ha vissuto Le season 4 5 Dove c'erano appunto Questi rift Che sono stati generati Allora dal razzo E poi hanno generato Loro stessi Il cubo Insomma un casino Si parla di eventi Veramente Veramente Fighi E andando avanti Lo avete già visto Nel piccolo preludio Di prima Ci sono Sei crateri Dei quali ancora Non si capisce bene La funzionalità Lasciate ovviamente Perdere L'acqua Non saranno posizionati In mezzo all'acqua Quello ci serviva solo Per vederli In game Ma c'è una cosa Molto particolare Che i più attenti Ovviamente Hanno notato Innanzitutto Mi sto riferendo A quelle rune Al centro Tra l'altro È presente Nei file di gioco Anche questa runa Che secondo me Potrebbe essere Uno standardo In regalo Non so perché Ma ho questo presentimento E molti dicono Che potrebbero Essere Quelli del Bifrost Il Bifrost Per chi non lo sapesse È quel ponte Che collega Il regno Dove c'è Thor E tutta la sua compagnia Alla terra Ed effettivamente Queste sono immagini Tratte dal film C'è una somiglianza Davvero Notevole Potrebbe Scusatemi Potrebbe anche essere L'evento Di questo season Collegato Con l'arrivo Di Thor Non lo sappiamo Sappiamo che c'è una skin Quella che state vedendo qua È un concept Ed è la skin Proprio di Thor Ma se andiamo In realtà A mettere I file audio Dell'evento Nello spettrogramma Per chi non sapesse Cos'è lo spettrogramma È un software Che permette di Mostrare Su un grafico L'onda Del suono E quindi scoprire Se qualcosa di particolare Beh Qualcosa di particolare C'è davvero Guardate quella figura Al centro Che si ripete Per quattro volte Non so voi Ma a me Sembra Groth Ci assomiglia Veramente tanto Staremo a vedere Se c'è un nesso E se sarà Questo L'evento Della season E prima di salutarci Andiamo avanti a parlare Del prossimo Argomento Di oggi Perché ci sono Anche degli Aggiornamenti Per quanto riguarda La navicella Spaziale Che adesso È completamente Aperta Quindi al suo interno L'astronauta È uscito E chissà Dove è andato Ci sono delle nuove Challenge Dedicate alla navicella E altri pezzi Da trovare Questo è il Roof Piece Roof dovrebbe essere Il tetto Se non ricordo male E questo è il Side panel Quindi i pannelli Laterali Insomma ragazzi Tanta tanta roba Un'altra curiosità Per chi se la fosse persa A foschi fumaioli Dentro un edificio Hanno inserito Questa Valigetta arancione Con questo triangolo Sopra Che se vi si avvicina Qualcuno Inizia a fare Dei suoni Non sappiamo perché È una roba particolare Ma lo sappiamo che Fortnite E i misteri Vanno di pari passo Insomma ragazzi Io anche per oggi Tutte le news Ve le ho dette Vi ringrazio tantissimo Per avere guardato Questo video Mi raccomando Non dimenticate Di iscrivervi I miei canali Lasciare un bel like E a me mi trovate Proprio adesso In live su Twitch Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti